Cari lettori e lettrici, la novità letteraria che sto per presentare è un romanzo rosa che offre una prospettiva unica sull'amore e sui rapporti interpersonali, combinando humor, romanticismo e una profonda riflessione sulle dinamiche di coppia. Inoltre, il modo in cui i libri vengono utilizzati come strumento di crescita personale e relazionale aggiunge un elemento intrigante alla trama. La trama del libro The Bromance Book Club Vol. 1, della scrittrice L.S.K. Adams, pubblicato dalla casa editrice Mondadori, è la seguente. Parigi, 1720. La superiore dell'ospedale della Salpetriere, Marguerite Pancatelin, è tormentata dai dubbi. Il veliero La Baleine salperà di lì a breve per la Louisiana e tocca a lei il difficile compito di selezionare 90 giovani donne in età fertile da dare in spose ai coloni francesi che abitano i territori occupati. Marguerite è consapevole che ad attendere queste ragazze c'è una terra dura e inospitale e che nessuna farà mai ritorno in patria. Nonostante sia una struttura in cui le pazienti sono spesso etichettate come pazze o criminali, la Salpetriere ospita per lo più semplice orfane o ragazze estravaganti che hanno infranto le regole sociali. Tra loro ci sono Genevieve, ribelle e affascinante, rinchiusa nella Maison de Correction dell'istituto perché ha aiutato diverse ragazze ad abortire, Petronille, una voglia bianca sul viso, figlia di una famiglia aristocratica in rovina che l'ha allontanata per i suoi comportamenti eccentrici, e Charlotte, un'orfana di soli 12 anni che non ha mai conosciuto il mondo fuori dalla Salpetriere. Nessuna di loro sa cosa l'attende al di là dell'oceano, nessuna potrà decidere del proprio destino, ma la paura dell'ignoto trasformerà il viaggio sulla baleine, lungo e pieno di pericoli, in un'occasione per costruire un legame profondo e un'incrollabile volontà di sopravvivere. Per Genevieve, Petronille e Charlotte l'arrivo in Louisiana significherà affrontare la durezza e la violenza di un matrimonio imposto, il confronto con il desiderio proibito, la ricerca disperata di un figlio che non arriva, e l'incontro con chi ha abitato questi luoghi per secoli e vede ora la propria esistenza in pericolo. Grazie per l'attenzione e buona lettura. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato, se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video e aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie iscriviti al canale.